La proposta del questore di Napoli Quindi mi par di capire che quasi del tutto si pone fine al stazionamento fisso dei militari in alcune postazioni che fu da noi criticato come misura particolarmente efficace nella prevenzione del crimine e invece i militari che ringraziamo per quello che hanno fatto in questi mesi saranno di controllo del territorio insieme alle donne e gli uomini delle forze dell'ordine ordinarie. Poi noi abbiamo però affrontato in comitato tutto quello che il Comune di Napoli ha fatto in questi anni nella materia della Movida, il patto per la convivenza consapevole e responsabile nella zona di Chiaia il lavoro che produce e produrrà sempre più effetti su Piazza Bellini e Bagnoli quello che è stato fatto a Via Nello Falcone noi continuiamo a ritenere che i risultati maggiori si ottengono attraverso la partecipazione in coinvolgimento di tutti i soggetti responsabili sul tema gli operatori economico-commerciali, i residenti, i cittadini, il Comune qui parliamo della materia che è responsabilità dello Stato cioè prevenire accoltellamenti e sparatorie e individuarne quando ahimè ce ne sono i responsabili quindi siamo finalmente soddisfatti che si dia conto a quello che noi stiamo dicendo da tempo cioè più persone per strada e che fanno un controllo del territorio Grazie 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 Grazie